Quest'anno ConfCommercio ha deciso di realizzare il primo itinerario del mototurismo delle Marche, uno strumento per i tour operator, per gli operatori turistici che non c'era. Quindi abbiamo deciso di realizzare un itinerario che riguarda tutta la regione Marche, con 15 percorsi da farsi in moto. In questa guida raccontiamo cosa si può vedere, oltre ovviamente alla traccia del percorso da fare in moto, cosa si può incontrare lungo il percorso, quindi quali sono gli aspetti enogastronomici, culturali, ambientali che caratterizzano questi 15 itinerari. Sono tre itinerari per ogni provincia, quindi per la prima volta come ConfCommercio facciamo uno strumento che riguarda l'intera regione. Questo ci ha riempito di grande soddisfazione quest'anno. Basti dire che nel Valentino Day di Tavuglia sono andate letteralmente a ruba tutte le copie che avevamo portato da dare in omaggio ai tanti appassionati di Valentino e di motociclismo. 500 copie sono andate letteralmente a ruba. Così abbiamo una richiesta fortissima che viene da tutta Italia. Il nostro sponsor quest'anno per questa iniziativa ha una ramificazione territoriale importante a livello nazionale e quindi da tutte le regioni italiane ci vengono richieste di questo materiale.